89 milioni e 600 mila euro sono queste qua, primo anno, secondo anno, terzo anno, 2016, 2017 e 2018, quindi si continua a investire in via Giustiniani. Le carte dicono che sommando i soldi stanziati per la nuova pediatria, 23 milioni di euro, sull'ospedale di via Giustiniani, oggi la regione ha investito quasi 100 milioni di euro, che sommati agli altri 100 del policlinico appena ristrutturato fanno 200, più i soldi che si spenderanno per la ristrutturazione delle aule di medicina. Si è già fatto il 25% dell'ospedale nuovo in via Giustiniani senza che nessuno se ne sia ancora accorto. Su questi numeri si è discusso questa mattina nella sede di Forza Italia, presente tutto il partito che rappresenta i forzisti in Veneto, da Ghedini a Marin fino ai consiglieri della Giunta, assenti per impegno i due assessori dissidenti, Mosco e Cavatton. Il partito ha chiesto un accesso alle carte per capire, visti questi numeri, la vera fattibilità di Padova Est. Il secondo ospedale in via a Padova Est, tra l'altro, non è a costo zero, perché i terreni del comune valgono 18 milioni di euro e quindi sarebbe sicuramente un regalo alla regione, ma si fanno i regali che sono necessari, non se si va a costruire a Padova il quinto ospedale. Su questi temi si è ragionato stamattina, ora ci sono due giorni di tempo per decidere se dare o meno l'appoggio al sindaco Bitonci nel suo progetto dell'ospedale a Padova Est. È evidente che chi non si riconosce in questa linea farà delle scelte altrettanto oneste e chiare e sceglierà comunque di dire ai Padovani che tradirà quello che è un mandato elettorale. Insomma, sull'ospedale si giocano le alleanze sulla sanità, Vacilla, Lasse, Lega, Forza Italia e per il commissario Furlan, chi non è d'accordo con la linea del partito è fuori. Spero che il sindaco incontri Furlan come rappresentante di una forza politica di cui il sindaco ha avuto bisogno per vincere le elezioni. Grazie a tutti.